La palacanestra è uno sport di squadra molto formativo perché prende i ragazzi fin da piccoli e li abitua a stare insieme, questo fa nascere normalmente amicizie che durano oltre quelli che sono i confini della palestra. Ci sono delle trasformazioni positive, quindi sia a livello motorio di coordinazione, perché la palacanestra è uno sport completo dove si sviluppano le capacità coordinative al massimo sia a livello comportamentale. Anche i bambini magari un po' più chiusi, un po' più timidi che cominciano a frequentare gli altri ragazzi e dopo qualche tempo si aprono, cominciano a fare spogliatoio, gruppo e cambiano proprio da un giorno all'altro. Nella palacanestra i valori principali sono quelli della spensieratezza perché i ragazzi comunque vengono in palestra divertendosi e passano dei momenti dove stanno bene insieme. Poi sicuramente direi quello dell'amicizia perché come ho già detto i valori che si creano in un momento nello stare insieme poi si porteranno dentro per tutta la vita e poi ovviamente anche energia come l'energia di stare insieme, l'energia di divertirsi e anche quella di uno dei nostri sostenitori principali come Estra che è l'energia che accende la nostra passione in palestra.